Un inusuale e straordinario viaggio lungo la giusta via verso traguardi sani e sempre più ambiziosi. E per imparare a volare nella direzione dei nobili valori lo si può fare anche in elicottero, per sentirsi liberi scoprendo i propri talenti da mettere al servizio del prossimo. Ad affrontare con coraggio ed entusiasmo questa singolare e straordinaria esperienza i giovani valtellinesi dell'oratorio Papa Giovanni Paolo II, che nel mese di giugno, grazie all'idea di Don Romano Polonia e alla bravura dei piloti, della Heli Work di Talamona, hanno survolato il cielo mirando singolari misure di grandezza dalle quali lasciarsi conquistare ma soprattutto espirare. Quella stessa grandezza in fondo che ognuno di noi porta dentro sé, che attende solo di essere riconosciuta. Ci troviamo all'oratorio di Grossotto in Valtellina, dove i ragazzi stanno per vivere un'esperienza straordinaria, grazie a Don Romano. Come mai un'esperienza di questo tipo? Beh, è semplice perché il tema regionale del Grest di quest'anno è per di qua. Quindi ho pensato di far vivere ai ragazzi l'esperienza di un viaggio, o meglio di un volo, perché non è da tutti i giorni vivere questa esperienza. Cioè l'esperienza di poter volare in alto e quindi di poter sperimentare cosa vuol dire il sogno o il desiderio di poter un domani, magari in mezzo a questi ragazzi, trovare un pilota per poter volare sempre più in alto e quindi pensare che dall'alto, dove c'è il Signore Gesù che ci protegge, c'è qualcosa di più che vale la pena anche scoprirlo. Un amore immenso per i ragazzi e per la vita, quello di Don Romano, che ogni anno, durante il Grest, insegna ai suoi giovani a scrollarsi di dosso la pigrizia, a lottare con rispetto e a diventare fedeli alla propria vocazione esistenziale, condizione primaria per essere liberi. Una fondamentale lezione teorica su come affrontare il volo in tutta sicurezza preceduto la pratica. Ragazzi attenti e curiosi hanno tempestato di domande ai piloti, trasformati per l'occasione in vale di insegnanti. Poi l'elicottero si è alzato in volo dal campo di calcio Grosottino, a salire sul mezzo, a turno, tutti i ragazzi dell'oratorio valtellinese, incontenibili al ritorno e all'entusiasmo per l'esperienza vissuta. È stata un'esperienza bellissima perché si riusciva a vedere Grosotto da un'altra prospettiva, come non si riusciva a vedere prima, stando fermi a terra. A me è piaciuto molto perché è un'esperienza che non fai un'altra volta. È stato bellissimo. È stato fantastico, non capita tutti i giorni di fare un giro in l'elicottero, perciò mi è piaciuto. Bellissimo, emozionante. È stato bellissimo e vorrei rifarlo. È stato bello e lo rifarei. È stata un'emozione bellissima, è stato bellissimo andare con l'elicottero. Una singolare lezione molto gradita anche dai genitori. È la prima volta che vola vostro figlio? Sì, questa era sicuramente un'ottima occasione da fargli fare. È un'esperienza emozionante, bellissimo. Il mio vola e quando arriva sopra casa lo buttano giù. Il mio era emozionato da stamattina. Le mie due sono a bordo ora. Fantastico. Grazie. A rimarcare il valore dell'appuntamento anche il sindaco di Grossotto, Guido Patelli. Siamo in compagnia del sindaco di Grossotto, Guido Patelli. Buongiorno. Buongiorno. Un commento sulla giornata. Oggi, come al solito, il nostro Don Romano ci stupisce sempre. Anche quest'oggi ha avuto una splendida idea. È appunto quella di permettere ai ragazzi di Grossotto di fare questa esperienza e questo volo. Come solito, poi, a quello che può essere la giornata, è riuscito a riempirla di contenuti. Come lo abbiamo sentito, oltre all'esperienza della giornata, è legato poi tutto quello che è il programma e un'esperienza educativa che è sempre importante per i ragazzi. Unire questi tipi di attività così fantasiose, sicuramente così attrattive per loro, sarà di ricordo negli anni che li vedranno crescere e diventare grandi e uomini. Un'apertura in grande stile, dunque, quella del Grest Grosottino 2016 per di qua, con un viaggio reale ma che diviene metafora, anche e soprattutto dello sviluppo esistenziale, che fa riflettere e ricorda che si appartiene a una comunità dove ognuno deve compiere la propria parte. Un viaggio dell'anima, insomma, quasi iniziatico, verso i più profondi valori della vita promossi dalla fede cristiana, ma anche un viaggio degno delle più grandi favole che ricorda in parte quello del collodiano Pinocchio o del piccolo principe, perché in fondo è proprio vero che non si vede bene che con il cuore.